Una banca con le radici nel futuro è lo slogan scelto da Unicredit per le celebrazioni dei 15 anni dalla nascita del gruppo bancario così come lo conosciamo oggi. Un percorso iniziato con l'inaugurazione della nuova sede di piazza Gaia Olenti, proseguito con i concerti del progetto Music Streets e l'iniziativa Tower Parade e culminate con la bella mostra Radici nel futuro, che raccoglie oltre 50 cimelli del passato della banca e un incontro con un parterre d'eccezione, fra cui gli ex ministri del Tesore delle Finanze Piero Barucci e Fabrizio Saccomanni, il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi, oltre al management il presidente Giuseppe Vita e la di Federico Ghizzoni. La mostra Radici nel futuro sarà aperta al pubblico in occasione del prossimo Open Day di Unicredit Tower e permetterà di osservare antichi documenti, assegni e libretti di risparmio, ma anche calcolatori elettronici antenati dei moderni computer, utensili provenienti dalle scrivanie dei primi cassieri esposti accanto a tecnologie d'avanguardia in un ideale dialogo fra passato e futuro di una banca sempre al passo con i tempi. La di Federico Ghizzoni. Un convegno celebra 15 anni, direi di anni difficili, di successi e anche di profonda ristrutturazione che rispecchiano un po' l'andamento dell'economia in questi ultimi tempi. Ma soprattutto è un convegno per il futuro. La banca è pronta ad accettare le sfide prossime che sono diverse, la globalizzazione, le tecnologie, le sfide regolamentari, i comportamenti dei clienti che cambiano. Siamo determinati a vincerle, abbiamo capitale sia finanziario che capitale intellettuale per farvi fronte, guardiamo con una certa positività l'immediato futuro. L'incontro è stata l'occasione per ripercorrere l'evoluzione di un gruppo giovane, ma dalle radici profonde, di cui fa parte la più antica società per azioni bancarie esistente in Italia, dal 1870, l'allora Banca di Genova, e che nel tempo ha aggregato enti ancora più longevi, fra cui Rolo Banca, fondata 541 anni fa, e la tedesca Bayerisch Hippotechen und Wechselbank, costituita 179 anni fa e poi confluita nel gruppo HVB. Era infatti il 1999, quando con l'ingresso di Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e Cassa di Risparmio di Trieste in Unicredito Italiano, si completava, con l'acquisizione della polacca Bank Pekau, un percorso di crescita geografica e diversificazione del business, che fa oggi di Unicredit un istituto di riferimento per l'Italia e l'Europa.